Musica Protesta di un gruppo di disoccupati e cassa integrati del settore della nautica, pronti a scendere in piazza, non chiedono sussidi ma lavoro. Mario Esposito, 41 anni, cassa integrato, accogliamo la sua protesta. La nostra protesta è che il sindaco di Fano potrebbe fare qualcosa di buono per noi, perché io sono in cassa integrazione dal 18 novembre, a tuttora mi sento senza diritto di lavoro, vogliamo un lavoro, vogliamo qualcosa da fare per Fano. Io sono in un cantiere nautico con una ditta esterna della Ferretti, un terzista. Noi cerchiamo per tutti i lavoratori che stanno in cassa integrazione, chi è in cassa integrazione e con le problematiche dei licenziamenti, chi è licenziato. Io attualmente ho un mutuo bloccato per 12 mesi, si riaccenderà in agosto. Come si va avanti oggigiorno con questa cassa integrazione di 760 euro, con due figli, una moglie e tutto il resto da pagare. Scenderete anche in piazza per manifestare il vostro disappunto e per chiedere un lavoro? In piazza scenderemo o con la CGL, con la CISO, con la UIL, se ci vogliono aderire. Vediamo che nessuno ci dà una mano, lo faremo da soli, comunicheremo a qualcuno, alle autorità, che faremo una manifestazione per smuovere questa situazione, perché i cantieri navali ci stanno abbandonando. Molti vanno via e abbiamo dato tanto per loro e loro niente per noi. Nicola Chiariello, 29 anni, ha una bambina di 8 mesi. Spiegaci meglio com'è la situazione. Non solo ho preso quella batossa, chiamiamola così, nella nautica del lavoro che ho perso, ma un altro colpo pesante me l'ha dato la banca. Ho un mutuo trentennale, l'ho fatto nel 2006. Pensavo di riferirmi con la legge Tremonti Bond, di bloccare come hanno fatto il mio cognato, i miei parenti, i miei amici. Invece la banca mi ha detto che non aderisce e mi ha lasciato così. Ho provato a consultare anche gli infoconsumatori, ho mandato raccomandate alla sede principale di Roma. Mi hanno detto che non possono fare nulla e intanto mi trovo con 5 mesi arretrati di mutuo che dovrei pagare 998 euro al mese. Mi dite voi come devo fare con una bambina di 8 mesi.